Siamo nello stand Lualdi con Alessandro Pastorini, quest'anno presentate diverse novità anche a livello di materiale, ce ne può parlare? Sì, allora quest'anno al Salone abbiamo potuto presentare qualcosa di diverso a livello proprio di boiserie e rivestimenti per il sistema casa, come potete vedere in questo esempio abbiamo provato ad applicare dei materiali tessili alla struttura, sia le strutture di apertura delle porte che ha le pannellature fisse, come ben sapete la Lualdi si caratterizza nel lavorare a stretto contatto con gli architetti, in questo caso il Piero Rissoni che da diversi anni collabora con noi per il lancio di nuovi materiali, quest'anno ha disegnato per noi diversi layer di boiserie, siamo in questo layer Osaka che si ispira un po' alla tradizione orientale, appunto l'applicazione diversa dei materiali, in questo caso abbiamo introdotto dei materiali tessili, ma immagino che su queste porte, su questi sistemi di boiserie si può applicare diversi materiali a seconda delle esigenze degli architetti, che può essere la pelle, possono essere dei materiali di fogli di pietra o fogli di marmo. La porta in questo momento tende a comparire o scomparire all'interno della casa? La porta è sempre stata un lose item all'interno della casa, secondo me si tende a impreziosire anche l'elemento porta all'interno della casa perché comunque c'è sempre più l'esigenza di guardare i dettagli al 100% all'interno dell'arredo, quindi diciamo che stiamo cercando di impreziosire sempre di più sia la porta come elemento unico, ma anche di integrarla con tutto ciò che vi è attorno, come può essere in questo caso la boiserie. Con quali mercati lavorate oltre l'Italia? Io mi occupo principalmente dell'estero, la Russia è sempre un mercato molto forte, anche se ultimamente per le vicende che sono successe in Ucraina è un po' in difficoltà. Io personalmente mi occupo dell'area Africa, Medio Oriente, India e stiamo lavorando molto molto forte con paesi emergenti come può essere la Nigeria, il Marocco, Ghana, Angola. La fiera come sta andando? La fiera bene, c'è tanta tanta gente, diciamo che abbiamo notato un certo incremento rispetto agli ultimi anni e di gente realmente interessata, che non vengono qua per curiosare.